La città è una stupenda emozione dell'uomo, la città è un'invenzione, anzi è l'invenzione dell'uomo. E oggi in questa ultima puntata della nostra trasmissione continuiamo a parlare della nostra città, dei progetti che la riguardano, delle emozioni che suscitano. E lo facciamo con il sindaco, Anton Francesco Vivarelli Colonna. Sentiamo. Grazie a tutti. Il 2020, l'anno appena trascorso, lo ricorderemo sicuramente come uno degli anni più difficili, dolorosi, ma anche complessi, sindaco, per governare una città. Effettivamente è un anno assolutamente difficilissimo nel vissuto, che rimarrà sicuramente nella memoria di ogni sindaco di capoluogo, ma anche di città sia metropolitana che di piccolo comune. Un anno inedito su cui nessuno poteva essere preparato, il piano pandemico a livello nazionale non esisteva e quindi siamo dovuti ricorrere allo spirito di iniziativa che contraddistingue ogni azione amministrativa sindacale in maniera veramente importante, senza avere una base di partenza da cui trarre spunto o un'esperienza da cui imparare. È stato veramente una grande sfida, un qualche cosa che rimarrà in ognuno di noi per chissà quanto tempo. Nucleo Fenice, uno strumento ideato e voluto dall'amministrazione comunale di Grosseto per pianificare la fase di ripresa. Di cosa si tratta tecnicamente? Sì, ci siamo subito accorti che l'impatto dal punto di vista sanitario sulla popolazione sarebbe stato devastante e inizialmente ci siamo concentrati su quell'aspetto, attivando tutte delle politiche importanti di monitoraggio, di moral suasion sulla popolazione per il rispetto dei distanziamenti sociali e delle misure atte ad evitare la diffusione e la propagazione del coronavirus 19. Poi dopo ci siamo accorti che un altro impatto impressionante, devastante, sarebbe stato quello sulla nostra economia, sulla nostra congiuntura. Avevamo dei dati che provenivano dal Confindustria, ma dalle associazioni di categorie e anche dal governo che parlavano di una perdita del PIL di 2,4 punti percentuali a livello mensile, se appunto la fase lockdown fosse rimasta in vigore per tanto tempo. E quindi abbiamo immediatamente voluto creare a livello amministrativo locale uno strumento idoneo e capace di intercettare tutte quelle manovre necessarie per il rilancio. Siamo stati i primi in Italia, addirittura prima che lo stesso Premier Conte inventasse qualche cosa di analogo con tutti quei tecnici di cui noi abbiamo memoria e ovviamente abbiamo condiviso con gli stakeholder della città, le associazioni di categorie, i sindacati, gli istituti di credito e chiunque potesse avere voce in capitolo un tavolo che abbiamo chiamato Nucleo Fenice, come la Fenice che risorge dalle ceneri più bella che mai e suddiviso in vari tavoli tematici a livello operativo che hanno condotto al miglioramento sia endogeno che esogeno della nostra potenzialità di azione amministrativa di rilancio. A livello endogeno creando quei presupposti intersettoriali, a livello anche di comunicazione secondo il principio dei vasi comunicanti tra uffici per sburocratizzare e per agevolare l'esecuzione delle pratiche, per quello che potevamo fare internamente all'amministrazione comunale. A livello esogeno come elemento di rivendicazione, raccogliendo tutte le istanze rivendicative del territorio provenienti dalla società civile, dalle associazioni di categoria per poter poi fare leva sugli organi sovraordinati come la regione toscana e il governo nazionale, arrivando anche a livello comunitario. Ecco, nel dettaglio più specificamente quali sono state poi le iniziative e i provvedimenti realizzati nell'ambito del Nucleo Fenice? È stato un lavoro molto importante, sette erano i nuclei che si adoperavano giornalmente con lunghissime riunioni insieme ai tecnici, insieme alle associazioni di categoria per trovare un'immediata possibilità di rilancio. Quindi abbiamo messo in atto tutta una serie di azioni, non ultima quella dell'interpretazione del codice degli appalti, anche qui siamo stati primi a livello nazionale per favorire il concetto di territorialità, ma non soltanto, abbiamo istituito strumenti come il prestito d'onore, mettendo a disposizione un plafond di quasi 300 mila euro per appunto sia le persone fisiche che le imprese che avessero avuto la dimostrazione di una perdita di fatturato in un determinato periodo X. Abbiamo dato il contributo a fitti, abbiamo contribuito ai buoni spesa, abbiamo attivato insieme alla popolazione tutta una serie di iniziative relative al rinvio dei tributi, l'alleggerimento della COSAP, l'allargamento degli spazi COSAP fruibili dalle imprese e dagli esercenti, esercizi commerciali o artigianali. Abbiamo ridotto la Tari in maniera ingente, oltre all'abbassamento che avrebbe avuto luogo indipendentemente dalla presenza del Covid-19 del 5%, su quelle aziende, non ricordo, quasi 7 mila se non vado errato, abbiamo prodotto un ulteriore decremento dell'imposizione fiscale sulla tassa dei rifiuti del 30%. Quindi sicuramente abbiamo messo in moto un meccanismo molto importante, trovando tra le pieghe di bilancio sicuramente delle risorse necessarie per questa finalità, ben prima che il Governo stesso adottasse le analoghe misure a compensazione poi delle anticipazioni dell'amministrazione comunale. Abbiamo anche poi adottato un concetto innovativo per quanto riguarda l'impiantistica con il project financing, creando sicuramente una condizione in cui lo stesso imprenditore o l'associazione potesse avere più tempo per gli ammortamenti, per poter quindi pianificare anche il patrimonio occupazionale e soprattutto gli investimenti necessari per migliorare la condizione di fruizione dei servizi e l'efficienza degli impianti stessi. Ricordiamo che durante la pandemia un ruolo fondamentale è stato svolto dalla protezione civile e dalla Polizia Municipale, Sindaco? Ma certamente, certamente su questo io ricordo appunto la difficoltà di un sindaco essendo massima autorità sanitaria, essendo massima autorità di protezione civile insieme al Presidente della Regione Toscana, ovviamente avendo a che fare con la popolazione e disponendo e io non finirò mai di ringraziarli di un cospicuo numero di volontari, di associazioni, di volontari insieme ovviamente alle forze dell'ordine classiche, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, ma ovviamente mettendo a disposizione anche le nostre forze della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale. Io ricordo che erano 10-11 le pattuglie della sola Polizia Municipale ad andare in giro per la città, non tanto a sanzionare, non tanto a punire, quanto appunto, come dicevo poc'anzi, a fare moral suasion, cioè ad insegnare, ad indottrinare la popolazione sui rischi che stesse correndo appunto in merito alla questione della pressione Covid. Quindi abbiamo avuto un atteggiamento dissuasivo di crescita anche culturale, di capacità di interposizione con la presenza del Covid-19 che si basasse non appunto sull'ammenda o sulla sanzione, ma anche sull'aspetto umano e su questo siamo stati anche, diciamo, molto aiutati dal Prefetto, da Sua Eccellenza il Prefetto, Marsilio, ma da tutte le forze dell'ordine. In questa fase ricordiamo che il Comune di Grosseto ha puntato anche sul nucleo tecnico di resilienza, una sorta di cabina di regia per la ripartenza. Sì, così come il nucleo fenice ha dimostrato di avere grande efficacia, riuscendo a movimentare oltre 40 milioni di euro, recentemente, di recente istituzione, il cosiddetto nucleo tecnico di resilienza, che vede anche lì la presenza di vari stakeholder della città, associazioni di categoria, ma anche esperti del settore, perché bisogna assolutamente massimizzare e potenziare la capacità di captazione di quelli che saranno i finanziamenti provenienti dal Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza di derivazione comunitaria. Abbiamo tutti sentito parlare dei 750 miliardi, di cui per l'Italia saranno appannaggio 208,7 degli stessi. Quindi noi bisognerà avere, anche per la tempistica e per la calendarizzazione della spendibilità degli stessi, grande capacità di captazione, di mettere in moto progetti esecutivi per poi arrivare a poterli spendere entro breve tempo. Si parla di un triennio. Nel primo biennio bisognerà essere capaci di spendere il 70% del finanziamento e nell'ultimo anno il restante 30%. Quindi è un qualche cosa di estremamente importante e fondamentale, perché da questo, che io chiamo il piano Marshall post-Covid, dipenderà la capacità di rialzare la testa da parte del nostro Stato in generale, della nostra regione, ma in questo caso anche dell'amministrazione comunale, che sarà percettrice del 10% in forma diretta di questi finanziamenti. Bisogna quindi tenersi pronti, con progettualità importanti, che vadano sia sul greening, sulla donna, sull'istruzione, sulla digitalizzazione, ma anche su tutti quegli aspetti fondamentali per il rilancio d'impresa. Parliamo del progetto Remunero, definito un progetto di economia circolare per l'ambiente. Di cosa si tratta in pratica? È un progetto estremamente interessante, un grande vanto dell'amministrazione. Siamo il primo capoluogo d'Italia che appunto mette in atto questo protocollo. Stamattina ho partecipato a una riunione e ho parlato con l'amministratore delegato di Remunero Orlando, insieme a tanti assessori della regione Sardegna e che hanno ascoltato appunto l'esperienza grossetana e vi posso dire che a livello di Sardegna appunto ci sarà la sigla del protocollo, non con il comune ma addirittura con la regione stessa. Quindi è un progetto virtuoso nell'ottica dello sviluppo della sensibilità del verde, quindi unendo l'etica, la deontologia comportamentale e il rispetto dell'ambiente a quelle che sono ovviamente le capacità di spesa riversabili a livello locale sotto forma di un sistema di geolocalizzazione dei negozianti e degli esercenti che fruiranno e entreranno a far parte del circuito Remunero ed essenzialmente la restituzione all'utente Tari sia che sia partita IVA che sia cittadino del 100% dell'ammontare della tassa di rifiuti pagata. Essendo la media nazionale circa 300 euro ogni cittadino avrà 300 euro a sua disposizione su una carta di credito Remunero da poter spendere a livello locale, favorendo quindi anche il rilancio della nostra economia locale e consentendo la permanenza del triplo del monte Tari che è di 17 milioni di euro sul nostro territorio, contribuendo all'incremento potenziale del PIL dell'1% a livello locale, quindi oltre 50 milioni che rimarranno sul nostro territorio. Il cittadino avrà quindi questa carta, si recherà all'interno di un negozio targato Remunero e potrà spendere acquistando qualunque cosa il 70% secondo le modalità normali, quindi valuta, bancomat, carta di credito e il 30% invece attraverso la carta Remunero che ovviamente lui vivrà come una forma di sconto che poi dall'esercente potrà essere riversata in un circuito perché a sua volta lo stesso esercente è un utente Tari che fruisce quindi di questo beneficio. Sindaco, le avevamo chiesto di portare una foto come per gli altri assessori, ma vediamo chi ha portato con sé l'intera giunta. Io la ringrazio per questo, complimenti per tutto, per la sua splendida trasmissione, lo dico con un pizzico di reale commozione. In questi cinque anni la mia giunta è diventata la mia famiglia, abbiamo affrontato giornalmente senza un singolo attimo decedimento, senza mai arretrare di un millimetro centinaia e migliaia di problemi. Lo abbiamo fatto a volte dibattendo sulle questioni anche in maniera animata, ma sempre con la volontà di superare le problematiche e anche i diverbi che ovviamente tra di noi possono essere a volte stati presenti. Lo abbiamo fatto con il senso della famiglia, con il senso della fratellanza e della sorellanza per superare insieme il problema a favore della cittadinanza. Ed è stato un elemento di crescita che io porterò sempre nel mio cuore. Ho una foto analoga all'interno proprio della stanza dove io dormo a casa mia, proprio per ricordarmi la mattina e la sera della mia famiglia, della mia giunta, che è stata meravigliosa e che per questi cinque anni mi ha accompagnato in un progetto di grande rivoluzione, di grande rilancio della nostra città di Grosseto, che sicuramente senza una giunta del genere sarebbe stata impossibile. E quindi rimarranno per sempre nel mio cuore. Li bacio uno ad uno e li abbraccio sentitamente con commozione reale.